insalata di riso detox bruciagrassi e saziante ciao amici piacciono anche voi i primi piatti freddi in estate io li adoro se sono leggeri e veloci da preparare noi ce li portiamo anche in spiaggia è un'ottima idea la ricetta di oggi il riso pilaf il riso tostato insaporito e cotto fino ad assorbire tutta l'acqua i chicchi risulteranno ben staccati e si sgraneranno molto facilmente la ricetta di oggi è speziata e fruttata detox e bruciagrassi per accontentare il gusto e la linea se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video i suoi pregi principali veloce e saporito ecco come si prepara insalata di riso bruciagrassi pilaf primo piatto freddo per 4 persone ingredienti 250 g di riso basmati 250 ml di acqua il succo di un'arancia 50 g di albicocche secche 5 cucchiai di uva passa 2 cipollotti 3 cucchiai di margarina vegetale mezzo cucchiaino di cardamomo in polvere un cucchiaino di garam masala un cucchiaino di curry in polvere 2 cucchiai di pistacchi 2 cucchiai di olio di semi di girasole tempo di preparazione circa 15 minuti più 20 minuti per far crescere il riso 1 ammollo delle albicocche lasciare le albicocche secche in ammollo nel succo d'arancia per circa 5 minuti 2 tagliare i cipollotti tagliare i cipollotti ad anelli sottili e regolari 3 insaporire scaldare l'olio e il burro vegetale in una padella e insaporire i cipollotti segreto speciale lavare il riso con cura passandolo sotto l'acqua corrente in un colino prima di cuocerlo per fargli perdere l'amido poi lasciarlo scolare e asciugare 4 stufare il riso aggiungere il riso e farlo stufare fino a dargli una consistenza liscia e compatta questo procedimento rende il riso pilaf 5 unire albicocche e uvetta dopo aver fatto sgocciolare le albicocche tagliate le pezzetti e unite il riso insieme all'uvetta 6 fase finale speziare e cuocere unire tutte le spezie aggiungere il succo d'arancia e 250 ml d'acqua coprire con un coperchio e lasciare cuocere per 15-20 minuti a fiamma bassa 7 guarnizione togliere il riso dal fuoco e sgranare bene i chicchi con una forchetta guarnire il piatto cospargendo con i pistacchi tritati a questo punto potete servire caldo o freddo a seconda dei vostri gusti proprietà degli ingredienti le albicocche contengono due aminoacidi arginina e lisina che aumentano il senso di sazietà le arance hanno pochissime calorie sono ideali quando si vuole perdere peso la vitamina c aiuta a svegliare il metabolismo i cipollotti sono antiossidanti disinfiammanti l'uvetta energizzante antiossidante regola la glicemia nel sangue la pressione arteriosa la margarina vegetale bio può essere inserita in una dieta ipocalorica per controllare il peso il cardamomo è utile nei casi di colon irritabile di problemi digestivi e sostiene il metabolismo l'olio di semi di girasole protegge la mucosa dello stomaco riduce il colesterolo cattivo e alleato della pelle garam masala è il nome indiano del curry un mix di spezie che combina cumino noce moscata chiodi di garofano cardamomo curcuma semi di coriandolo e ancora cannella grani di pepe nero zenzero esistono parecchie ricette di garam masala con diversi principi ed effetti benefici da quelli anti infiammatori a quelli antiossidanti in generale il garam masala aiuta la digestione delle pietanze più pesanti il riso basma ti facilita la dieta perché dà un senso di sazietà inoltre riduce l'assorbimento del colesterolo grazie alle fibre che aiutano contro la stipsi i pistacchi sono ottimi per tenere sotto controllo il peso perché sono ricchi di fibre sono anche ricchi di vitamine e oli sani in descrizione trovi il link al mio libro alimentazione naturopatica con le ricette di serena babbu vegan e raw chef mangia e bevi consapevole e vivi meglio vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video i link ai miei libri ed ebook i motivi per cui divulgo la mia esperienza seguimi sul canale sui social clicca mi piace condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao 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 Grazie a tutti.